Sono passati pochi giorni dal nuovo DPCM emanato dal Governo lo scorso 25 ottobre per affrontare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Sono state penalizzate molte attività che si sono trovate alcune a chiudere totalmente, altre a rimanere aperti negli orari e modalità consentite. Sono state sospese le attività di piscine e palestre nelle loro formule SSD e ASD. Nell'attesa degli aiuti disposti dal Governo e dal Comune di Bitonto non resta che iniziare a rimboccarsi le maniche per organizzare in maniera alternativa l'attività sportiva. C'è chi ha pensato alle attività all'aperto e chi invece si affiderà al web con lezioni online, ma la rabbia resta comunque tanta. I contributi non ne sono arrivati, i nostri collaboratori sono senza far nulla da mesi ormai e questo è un settore che alla riapertura di questo secondo lockdown vedrà sicuramente più del 50% delle attività soccombere e il termine esatto è soccombere perché non avranno aiuti da nessuno. In realtà non c'è un dato scientifico che attesti un aumento di casi all'interno delle palestre o delle associazioni sportive dilettantistiche e quindi non vedo il motivo per cui il Governo decida improvvisamente di chiuderci. Non è per nulla positiva neanche la situazione in cui si trovano i bar e i ristoranti. Seppur anche loro attendono degli aiuti, alcuni, come gestori di cicchetterie, faticano a riformulare le loro attività che sono nate fondamentalmente per essere aperte al pubblico di sera. Stiamo capendo un po' come muoverci anche per quanto riguarda tutti gli aiuti che possono venirci dallo Stato, comunque dal Comune e ora stiamo prendendo le informazioni che sono utili e non lo so, è tutto nell'incertezza perché novembre sì fino a 24 ma secondo me molto probabilmente andremo anche oltre. È stato penalizzato anche il mondo della cultura con la chiusura di teatri e cinema. Non sono bastati anche qui gli sforzi per rispettare l'enorme anticontagio. È stata già una sfida, un rischio, quello di aprire il teatro tra Etta. A novembre sarebbe dovuta partire la stagione ma ora è tutto sospeso. Queste le parole del vicesiddaco Rino Mangini. Ora è tutto spostato e purtroppo il teatro resterà chiuso. Sperando che questo sacrificio possa portare qualche notizia numerica buona a fine novembre per poter magari programmare un dicembre a teatro che sarebbe già un buon punto di ripartenza.